Ciao a tutti vediamo come disabilitare i programmi all'avvio di Windows 11 ci basta andare sotto sulla barra delle applicazioni premere sull'icona di Windows o di ricerca e scrivere gestione attività automaticamente vi uscirà l'app altrimenti potreste fare ctrl alt cance se siete più da quel tipo di persone e puoi fare gestione attività da qua la selezioniamo si aprirà questa piccola finestrella se è la prima volta che la aprite o se non avete mai mostrato più dettagli voi premete sotto dove vi dice più dettagli e da qua avrete una finestra abbastanza grossa con tante cose voi volete andare sulla quarta voce in alto dove c'è processi, prestazioni, cronologia applicazioni e poi avvio a voi interessa quella da qua troverete tutte le applicazioni che partono all'avvio di Windows quindi ogni volta che voi fate partire il computer queste applicazioni se sono abilitate si metteranno in coda per partire automaticamente quindi voi semplicemente scegliete quelle che volete disabilitare o abilitare premete e dopodiché in basso a destra c'è il pulsante disabilita oppure semplicemente tasto destro disabilita perfetto se non sono veramente veramente importanti io consiglio di disabilitarle tutte e questo è quanto se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento ciao ciao